Qual è la situazione oggi della nuova banca Marche? Sì, è una situazione positiva quella della nuova banca perché è riuscita in un mese di attività a fare circa 120 milioni di euro di finanziamenti che hanno interessato circa 3500 soggetti fra singoli privati, imprese e quindi con quella vicinanza, quella adesione a un territorio, quella diffusione caratteristica di una banca che si proietta sulla nostra comunità. È riuscita a fare più di mille clienti nuovi segnalando una vivacità dell'istituto di credito che dopo un momento difficilissimo, le difficoltà, i cittadini che sono trovati coinvolti nel salvataggio, dà anche la dimensione di una presenza fatta di filiali, di dipendenti che sono rimasti gli stessi che hanno voglia di utilizzare la nuova banca oggi risanata come strumento di credito e di crescita per l'economia del nostro territorio. Dal punto di vista del procedimento penale, lei ha parlato comunque di tempi lunghi e c'è comunque l'intenzione della regione di costituirsi parte civile? Il Consiglio regionale ha votato un ordine del giorno, l'abbiamo esteso all'avvocatura della regione per valutare ovviamente la motivazione e la fattibilità, ovvero quello di aderire al caso in quando si aprirà il processo penale come parte l'ESA da un punto di vista del danno immagine che ne ha avuto il nostro territorio per poter ottenere e richiedere un risarcimento che nel caso in cui fosse poi alla fine concesso questo risarcimento, da rigirare a favore di quanti hanno appunto patito nel passaggio difficilissimo del nascere della nuova banca.